Ciao, sono Fulvio Mariola. In questo tutorial analizziamo l'ultima argomentazione della parte 4. Poi, dal prossimo tutorial, entreremo nella parte 5, quindi il layer 3 e il routing. Per il momento analizziamo le sublent già esistenti. Quindi che cosa è una sublent, cosa sono le classful, cosa sono le classless, come calcolare le subnet e quant'altro, sono cose che ci saranno utilissime quando andiamo a studiare il routing, quindi il layer 3, perché iniziamo a lavorare con i router e quindi dovremo subnattare oppure capire come gestiscono gli indirizzi IPv4 i router. Più avanti vedremo che le subnet, come noi stiamo studiando e come applicarle, in realtà non ci serviranno più di tanto perché ci saranno dei protocolli che fanno questo. Ad esempio c'è DHCP. Però se noi, ad esempio, dovremmo risolvere un problema, dovremmo capire dove è la soluzione a questo problema, dovremmo capire come funziona una subnet e quindi avere anche una chiara idea per capire poi quale potrebbe essere la soluzione migliore. Quindi conoscere le classful, conoscere le classless e saper riconoscere le loro strutture che per noi è importantissimo. Quindi vi invito ad esercitarvi con il calcolo dei numeri binari, da numeri decimali a binari, da binari a decimali, come calcolare una subnet, quante subnet ho all'interno di un indirizzo IP, quanti IP ho all'interno di una subnet e quant'altro. Queste cose non si fermano in questo tutorial. Le dovrai analizzare continuamente perché dovrai affrontare queste problematiche in continuazione, soprattutto se vuoi prendere come attività il lavoro da networking. Quindi devi avere ben chiare le idee, a prescindere che tu voglia prendere una certificazione della Cisco oppure no. Certo è importante una certificazione della Cisco, ma saper mettere le mani ad una rete è una cosa molto importante, a prescindere del dispositivo che tu stai utilizzando. Come dicevo andiamo ad analizzare una subnet già esistente. Io direi di fare degli esercizi perché in questo caso sono molto più utili. Nelle precedenti lezioni abbiamo fatto alcuni esempi con Packet Tracer, abbiamo visto come funzionano i protocolli di comunicazione tra due computer, all'interno di una LAN, quindi layer 2 e quant'altro. Adesso però a noi ci serve capire come funzionano gli indirizzi IP, in questo caso IPv4, perché dobbiamo capire come gestiscono i router questi oggetti. Quindi iniziamo con una domanda. Ad esempio, quando tu pensi a riguardo di un IP address che utilizza le regole classful di indirizzamento o addressing, un indirizzo in genere è diviso in tre parti, l'avevamo visto anche nelle precedenti lezioni, ti metto su un altro link della precedente lezione, poi le subnet e poi gli host. Se esamini tutti gli indirizzi in una subnet in binario, quindi calcola sempre i numeri in binario, quindi un 255 significa che sono 8 o 1, quali delle seguenti risposte indica correttamente le tre parti descritte? Uno, ad esempio, solo la parte network, solo la parte subnet, solo la parte host, oppure le parti network e subnet, oppure le parti subnet ed host. Diciamo che ognuna di queste cinque risposte potrebbe essere in parte corretta, però una di queste di sicuro è la più corretta rispetto alle altre, anche perché le altre potrebbero non essere del tutto chiare. Quindi intanto solo la parte network è errata, anche solo la parte subnet e solo la parte host, perché io adesso sto subnattando una rete che è composta in questo caso da network, subnet e host. Più avanti quando definiremo una subnet vedremo che una classful ha network, subnet ed host, mentre invece una classless ha solo subnet ed host. Poi le parti network e subnet, questa è la risposta che è più corretta rispetto alle altre, ma anche le parti subnet ed host non è propriamente corretta. Andiamo alla domanda numero 2. Quali delle seguenti dichiarazioni sono vere prendendo in esame i numeri binari della subnet, subnet broadcast e ip address degli host e facendo riferimento ad una sola subnet? La parte host del broadcast è composta da tutti i binari uguali a 0. La parte host delle subnet ID o subnet network è composta da tutti i binari uguali a 0. La parte host degli indirizzi ip potrebbe avere tutti i binari uguali ad 1. Oppure la parte host di alcuni indirizzi ip utilizzabili non devono avere tutti gli indirizzi ip uguali a 0. Prova a ragionare un attimo a queste soluzioni. Allora, la prima è sbagliata, la seconda, la parte host delle subnet è composta da tutti i binari uguali a 0 ed è vero perché, come abbiamo visto nella precedente lezione, un indirizzo ip, quando è matchato con una mask o con una subnet mask, è diviso tutti gli 1 che fanno parte della subnet mask sono la rete e poi tutti gli 0 appunto sono gli host, quindi questa è vera. La terza non è corretta perché la parte degli host degli indirizzi ip potrebbe avere tutti i binari uguali ad 1 e è falso perché quando ha tutti i binari uguali a 1 è subnet id e non è host e invece la quarta è corretta perché la parte di alcuni indirizzi ip utilizzabili quindi tutti quegli indirizzi ip che sono compresi da subnet id e broadcast sono utilizzabili non devono avere tutti gli indirizzi ip uguali a 0 certo è vero perché è un indirizzo ip qualunque se a tutti gli indirizzi ip uguali a 0 non è più un ip utilizzabile ma è una subnet id se a tutti 1 è un broadcast quindi avrà alcuni che sono 0 e alcuni che sono 1 poi vediamo la domanda terza quale è la subnet dell'indirizzo ip 10.7.99.133-24 255.255.255.0 come ricordi questa è una classe subnattata perché l'indirizzo ip fa parte di una classe A quindi il 10.000 10.7.0.0 10.7.99.0 oppure 10.7.99.128 aspetto qualche secondo chiaramente la 10.000 non è corretta la 10.700 non è corretta e invece la 10.7.9.0 è proprio la subnet id di quell'indirizzo ip perché come vedi è barra 24 quindi è l'ultimo tetto a destra che fa parte degli host e quindi è giusto e l'ultimo ovviamente è sbagliato e infatti vedi calcolo veloce nella risposta quando matchi l'ip address con la mask quello che esce è proprio 10.7.9.99 sono proprio quegli indirizzi 0.1 in binario o in decimale 10.7.99 che non cambiano quindi fanno tutti parte di questa rete in layer 2 quelli che cambiano è solo l'ultimo ip a destra andiamo ad analizzare anche la domanda 4 qual è la subnet per l'indirizzo ip 192.168.44.97.30 potrebbe essere ad esempio 192.168.44.0 oppure 192.168.44.64 o ancora 192.168.44.96 192.168.44.128 aspetto qualche secondo e prova a pensare quale potrebbe essere la risposta corretta vado avanti la prima è sbagliata non lo può essere la seconda anche invece la terza è proprio la risposta corretta e infatti se andiamo a fare un calcolo ip address 192.168.44.97 come vedi barra 30 sta per 252.55.255.255.252 e la mia subnet ID che non può essere un ip address utilizzabile è la 192.168.44.96 adesso andiamo a vedere il riferimento anche al primo esercizio che abbiamo fatto la definizione di una subnet un ip subnet è un sotto insieme di una network classful infatti una classless creata da qualcuno per una certa network ad esempio mi servono più indirizzi ip oppure meno indirizzi ip posso farti un esempio se sto gestendo diversi router quindi non stiamo più parlando di switch ma parliamo di router che gestiscono la rete e devono comunicare tra di loro per farli comunicare conviene che utilizzino la stessa rete e per utilizzare la stessa rete non vado ad utilizzare una rete che è magari 255.255.255.255.0 che può avere fino a 254 indirizzi ip magari vado ad utilizzare una barra 30 dove possono esistere solamente due indirizzi ip utilizzabili quindi oltre al fatto che è più comodo per te nel creare questa rete è anche più sicuro verso l'esterno o per qualsiasi attacco che potresti avere in questa rete la subnet contiene un insieme di numeri consecutivi chiaramente uguali a 1 perché quelli uguali a 0 sono host la subnet ha anche 2 elevato all'h numeri quindi quelli 0 dove la h sta per i bit relativi agli host definiti appunto in una subnet mask ha due numeri speciali come abbiamo già detto tante volte il subnet ID e il broadcast poi il primo infatti è una subnet ID e il secondo è il subnet broadcast address poi gli indirizzi rimasti fra subnet ID e subnet broadcast address sono gli unicas IP addresses cosa significa? significa che un dispositivo che sia il computer, portatile o qualsiasi altra cosa può avere un solo indirizzo IP non ce n'è un altro che ha un indirizzo IP uguale a quello se è in una rete privata ovviamente non ce l'ha all'interno di quella rete privata se è una rete pubblica invece ha un indirizzo IP al mondo ce l'hai solo tu dipende poi se la subnet che stai utilizzando è una classe pubblica oppure una classe privata poi facciamo un esempio con una network 172.16.0.0 e le quattro subnet immagina di avere ad esempio IP address 172.16.150.41 e la sua mask che non è una classful perché è stata subnettata ma è una classless quindi è 255.255.192.0 se ricordi 192 il binario è 11.60 prima di esaminare la mask e la network classful 172.16.0.0 come avevamo visto ad esempio la parte slash IP che è uguale a network più subnet che ad esempio in questo caso è uguale a 18 la subnet è uguale a 2 perché la classful è 255.255.00 in questo caso ho aggiunto 2 IP ovvero 11.60 quindi la subnet è uguale a 2 e la host saranno tutti gli 0 rimasti quindi 2 elevato alla 14 meno 2 le quattro subnet che abbiamo detto all'esempio sono queste per il momento è tutto ci vediamo al prossimo tutorial